Un applauso a Matteo Spadini! Un applauso a Matteo Spadini! Un applauso a Matteo Spadini! Non siete degli italiani per bene, perché siete qua a migliaia, ma la domenica sera gli italiani per bene stanno a casa a guardare Fazio. Cosa ci fate qua? Quelli politicamente corretti, solidali, generosi, accoglienti, antirazzisti, antinazisti, antinvasione degli alieni, quelli col portafoglio pieno Rolex al polso che si occupano dell'altra parte del mondo, la domenica sera stanno a casa a guardare Fabio Fazio oppure Roma-Juve. Evidentemente ci sono problemi che agli italiani interessano di più e quindi vi dico grazie dal profondo del cuore perché una piazza così veramente è difficile vederla. Grazie perché molti di voi hanno quel brutto vizio magari domani mattina di alzarsi per andare a lavorare. Quelle robe strane, che per qualcuno è una roba strana. Comunque grazie perché stiamo mese per mese, paese per paese, piazza per piazza provando a costruire un'Italia migliore. Siccome non tanto per me, Riccardo, ti ringrazio, ragazzo, a 40 Cezanne, ragazzo, probabilmente a Dio piacendo la maggior parte dei miei anni li ho alle spalle, ma siccome ho una bimba di 6 anni, un figlio di 16 anni, do anche la vita per lasciare a loro un'Italia migliore rispetto a quello che mi hanno lasciato i miei genitori e i miei nonni. E' un'Europa dove al centro tornano i diritti, il lavoro innanzitutto. Se ci date una mano e la Lega non è solo primo partito in Italia, ma è primo partito in Europa, tutte le regole e regolette europee che stanno massacrando il lavoro degli italiani, noi le andiamo a stracciare una per una. Prima viene il diritto al lavoro, il diritto alla salute. Qua spero che ci diate una mano a ricostruire Regione Piemonte e andare a riaprire gli ospedali che la sinistra ha chiuso negli ultimi anni, uno per uno. Perché sul diritto alla salute non si scherza, si può risparmiare su tutto, ma quando chiudi un punto nascite, un reparto oncologia, quando per fare un attacco, un esame oncologico hai una lista d'attesa di un anno o di due anni, vuol dire che qualcosa non funziona. E se la risposta è che le regole di bilancio dell'Europa ci impediscono di assumere medici, di assumere infermieri, di assumere avvocati, di assumere poliziotti, di assumere insegnanti, vuol dire che quelle regole sono sbagliate e se le regole sono sbagliate o le cambiamo o ce ne freghiamo. La terza ipotesi non c'è. No, no, che se dico me ne frego mi arrestano. Oggi ero, oggi una bellissima giornata a Ligure e Piemontese, nella tappa cuneese fra Fossano e Bra, mi hanno chiesto mezz'oretta per andare ospite dell'annunziata su Rai 3. Mamma mia, io ho parlato di vita reale, quindi lavoro, legge Fornero, Equitalia, flat tax, studi di settore, riforma della scuola, riforma della giustizia, sicurezza, quindi lavoro, tasse, immigrazione. E lei ogni volta, però c'è il rischio del fascismo. Perché mi ha detto che lei, Salvini, si affaccia ai balconi come Mussolini? Ma se io a Milano sto al primo piano e quando stendo la roba, la stendo sul balcone e mi affaccio al balcone, penso che anche molti di voi si affaceranno al balcone ogni tanto, ma senza con questo avere dentro la voglia di far risorgere la dittatura, siamo in democrazia, rimarremo in democrazia. Se la sinistra, come argomento per Tortona, per la regione Piemonte o per cambiare l'Europa, si occupa solo del passato e non ha neanche mezza proposta per il futuro, vuol dire che ha già perso e noi abbiamo già vinto. Perché io il passato lo lascio ai libri di storia. E provo a costruire il futuro. Fondato sul lavoro, dicevamo, tutti mi hanno detto che non ci saremmo riusciti. L'Inps diceva di no, la Banca d'Italia diceva di no, la Corte dei Conti diceva di no, la Commissione Europea diceva di no, la Banca Centrale Europea diceva di no, però era una questione di giustizia, era un dovere morale, era un'eredità da lasciare a chi vuole cominciare a lavorare. Abbiamo con orgoglio cominciato a smontare quella schifezza della legge Fornero. anno per anno, mattone per mattone. Vuol dire che se quest'anno andranno in pensione 300.000 italiani e decine di migliaia anche in Piemonte, qual è l'effetto positivo? Al di là di questa gente che finalmente io incontro e sicuramente ci sono anche fra di voi, quindi tu offri da bere a tutti, ti sei rovinato, anche là, anche lì, anche lì va bene, però anche lì ok. Però non è che abbiamo fatto un regalo, perché qua c'è gente di 63, 64, 65, 66 anni con la schiena spezzata, che aveva pagato le tasse e i contributi per 40 anni, per cui andare in pensione era un atto di giustizia, erano infami a trattenerli al lavoro fino a 67 anni, perché non potevano vedere in faccia i figli, i nipoti, la moglie invalida e al posto di queste centinaia di migliaia di persone che cosa succederà? Che anche in provincia di Alessandria si aprono spazi di lavoro per migliaia di ragazze e di ragazzi che altrimenti dovevano scappare. Dovevano scappare a Londra, dovevano scappare a Berlino, dovevano scappare a Parigi, diritto al lavoro, questa è l'emergenza nazionale, e diritto al lavoro significa ridurre le tasse alle imprese che sono le uniche che creano lavoro e ricchezza. Tagliare le tasse alle imprese è quello di cui voglio discutere in Consiglio dei Ministri, perché per caità poi me ne propongono 6.000 all'emergenza e ridurre le tasse alle famiglie e alle imprese. Nei primi tre mesi di quest'anno, grazie alla tassa unica al 15% che abbiamo messo sulle partite IVA gli artigiani e i commercianti, hanno aperto 200.000 partite IVA in Italia, 200.000 italiani di cui molti giovani hanno detto ci provo, mi metto in gioco, visto che il governo mi chiede solo il 15% di tasse, senza burocrazia mi metto in gioco, perché non possiamo costruire un paese fondato solo sull'assistenza, sulle lemosine, sui redditi, no, la ricchezza viene creata da chi crea lavoro e quindi ridurre le tasse alle imprese è fondamentale per far ripartire il paese, come è fondamentale liberare tutti i cantieri bloccati, tutti, abbiamo bisogno di strade, autostrade, ferrovie, porti, aeroporti, ponti, coi no, non si va solo coi no, non si va lontano, noi abbiamo lavorato per settimane al decreto sicurezza, al nuovo decreto sicurezza, mettendo dentro delle cose che ci chiedevano le forze dell'ordine, i giudici, i sindaci, ho sentito che qualche alleato di governo senza manco averlo letto ha detto no, ma il no punto, non serve, in questo decreto sicurezza che io che sono testone porterò in Consiglio dei Ministri, ad esempio si prevede un aumento delle sanzioni per quelli che attaccano o minacciano chi indossa una divisa, chi mette le mani addosso a un poliziotto o a un carabiniere, chi insulta un poliziotto o il carabiniere, chi sputa un poliziotto o il carabiniere, non la passa liscia, in Italia sembra normale, quando vedi i cortei dei centri sociali a Torino ne fanno, ne disfano di tutti i colori e non ne finisce neanche uno in galera, ma tu prova ad andare in Svizzera o in Germania o in Estraglia o negli Stati Uniti a tirare un dito contro un poliziotto, ti mettono in galera e buttano via la chiave e fanno bene perché bisogna rispettare chi indossa una divisa e non è una roba strana, in questo decreto noi prevediamo l'assunzione di 800 persone che mettano in galera i troppi delinquenti condannati che sono ancora a spasso, pensate che solo a Napoli ci sono 12.000 delinquenti condannati che invece di essere in galera sono a spasso perché la magistratura e la giustizia non ce la fanno a metterli dentro, ci sono poliziotti e carabinieri che li arrestano ma questi invece di essere dentro sono in giro per Tortona, allora bisogna assumere persone perché io posso da ministro dell'interno assumere 10.000 poliziotti in più ma se poi la giustizia non fa quello che bisogna fare li abbiamo in mezzo a una strada e poi ammazzano qualcuno a Torino e poi sparano bambina di 4 anni in giro per Napoli, no, se uno sbaglia paga questo e vediamo se siamo più testoni noi o sono più testoni gli altri, oggi abbiamo fatto la provincia di Cugno, la provincia di Torino, la provincia di Alessandra, eravamo in provincia d'Imperia, domani mi alzo presto e vado a mantenere un altro impegno preso, questa volta vicino a Bergamo, vicino a casa mia alle 10 della mattina darò il primo colpo di ruspa alle torri dello spaccio e dei clandestini vicino a Bergamo, a Zingonia, giù, rase al suolo, rase al suolo, ovviamente svuotate dagli occupanti, abbiamo, ci sa mai che qualche telegiornale, Salvini abbatte i palazzi, no, prima abbiamo allontanato, messi in galera quelli che andavano in galera e ricollocato quelli che invece avevano un diritto, però giù lo facciamo a Bergamo come lo faremo a Scampia, alle torri dello spaccio e poi Salvini, sono già sicuro che domani ci sarà qualche giornalista ben pensante che dirà, però Salvini sempre con la ruspa e buon Dio, ma io ho un condominio come lo tiro giù, con le margherite, con i tulipani, sai che per la ruspa che per la ruspa, non è che... e poi si ricostruisce e poi costruiscono nuove case, giardinetti, è quello che stiamo facendo, questa settimana lo ricordo sono stato a Platì nel cuore della Spromonte in Calabria e una palazzina che era di un mafioso è diventata un oratorio per i bambini del paese nel cuore della Calabria per avere un'alternativa, è questo, sono stato a fine aprile a Corleone nel cuore della Sicilia e anche lì una palazzina sequestrata a un mafioso è diventata il commissariato della Polizia di Stato, a San Giuseppe Vesuviano un centro commerciale che era della Camorra diventerà una scuola elementare per 500 bambini di quel paese e noi la mafia la combattiamo così, non con le chiacchiere come Saviano, la combattiamo così, confiscando ville, negozi, appartamenti, centri commerciali, conti correnti, così, poi fatti, poi per caità non staremo simpatici a tutti, almeno questi ben pensanti, però poi siamo all'inizio di un percorso e so benissimo che mancano tante cose da fare, prima in piazza ero a settimo e prima ancora c'erano tante ragazze e ragazzi disabili, non udenti, non vedenti, in carrozzina, due bimbi autistici con cui ho fatto la foto, so benissimo e questa è una cosa che non mi fermerò fino a che non siano riusciti a portare avanti almeno il dovere morale di raddoppiare le pensioni di invalidità perché 280 euro al mese sono una vergogna con cui non si può sopravvivere. E anche lì per caità, piano piano cominciamo, le accise sulla benzina, anche lì sono una vergogna con le vecchie di 30 o 40 anni e anche quello è un impegno, bacchette magiche non ne abbiamo ma penso che in questi 9-10 mesi vi siate resi conto che se ci prendiamo un impegno lo portiamo fino in fondo, avevamo promesso di mettere le mani ai disastri di Equitalia e con la pace fiscale saldo e stralcio ci sono quasi 2 milioni di italiani che saranno liberati dalla cartella di Equitalia quest'anno, pagando quello che possono, senza sanzioni, senza interessi, dobbiamo fare di più non solo per le persone fisiche ma anche per le società e ricordo ai fenomeni di sinistra o anche a qualche amico 5 Stelle che non stiamo parlando degli evasori da 10 milioni di euro, stiamo parlando magari di artigiani, di pensionati, di partite IVA che hanno quella cartella da 30 mila euro che gli sta rovinando la vita e poi diventano 40 mila e poi diventano 50 mila e poi non ce la fai a pagare il mutuo e poi ti portano via la casa, ti portano via la dignità, vogliamo liberare questi italiani, mi dai quello che puoi e torni a lavorare e torni a pagare le tassi, questo fa un paese civile e questo abbiamo cominciato a fare, per fare tutte queste cose c'è bisogno di un governo, quindi io col governo vado avanti, ogni tanto devo confessare che faccio esercizio yoga, mi faccio come le tre scimmiette, non sento, non vedo, parlare parlo il giusto, guardo avanti perché ogni tanto agli attacchi delle opposizioni ci sono abituato, cioè che il PD mi insulti ogni giorno e chieda le mie dimissioni ogni giorno, per me no, attenzione, il giorno in cui io mi alzassi e nessuno del PD chiedesse le mie dimissioni vuol dire che sto sbagliando qualcosa, nel senso che il giorno in cui Renzi dicesse bravo Salvini vuol dire che ho sbagliato qualcosa, quindi fino a che Renzi, Martina, Zingaretti, Fassino, Chiamparino, fino a che mi attaccano vuol dire che sto lavorando bene, quello che ogni tanto così mi incuriosisce non sono gli attacchi delle opposizioni ma sono gli insulti di qualcuno che dovrebbe essere un mio alleato che sta governando con me, però non mi interessa e vado avanti e mantengo la mia parola che ho dato agli italiani e vado avanti perché di cose da fare ce ne sono tante, stateci vicini perché non è... La cosa bella è che io sono sicuro che le immagini di questa piazza domani non ci saranno su nessun giornale e su nessun telegiornale, ne sono sicuro, scommetto che sul Tg1 mai faranno vedere la piazza di Tortona ma io conto su di voi e siate voi da qui al 26 maggio a contaminare di entusiasmo Tortona e la provincia di Alessandria perché l'Europa la andiamo a liberare, se voi ci date una mano l'Europa la andiamo a liberare, Tortona la andiamo a liberare, la regione Piemonte la andiamo a liberare, preferisco voi che non qualche giornalista, qualche banchiere o qualche finanziere, non mi interessa, la Lega è arrivata dove è arrivata e amici in quelle stanze lì non ne abbiamo tanti, però evidentemente ancora oggi l'annunziata mi diceva, probabilmente non hanno, non si capacitano del fatto che la Lega sia primo partito perché io oggi sono andato in televisione così, con tiscar del tennis, con i jeans, con orgogliosamente la felpa della Dunata Nazionale degli Alpini che oggi hanno riempito di gioia, di colori, di educazione Milano, viva gli Alpini e sempre viva gli Alpini e proverò fino in fondo a far ripartire il servizio militare perché non si interrompa una tradizione bella come quella degli Alpini che dove c'è bisogno ci sono, sempre, comunque, subito e magari a qualche ragazzo dei centri sociali farebbe bene fare qualche mese perché lì si impara il rispetto, alcune parole fuori moda che se dette in televisione, Salvini evoca la dittatura, onore, rispetto, disciplina, regole, doveri, non ci sono solo diritti ma ci sono anche doveri perché se si parla solo di diritti ecco una cosa di cui non mi capacito sono quei genitori che non sono genitori, che hanno sbagliato mestiere, che non riescono a educare e si legge ormai un giorno no sui giornali di questo genitore che va a scuola e invece di prendersela col figlio che ha fatto casino vanno a mettere le mani addosso alla maestra, all'insegnante, ma che testa ha questa gente, ma come si fa, ma come si fa? Io dai miei qualche sberlone l'ho preso e non ho chiamato il telefono azzurro e se l'ho preso è perché me lo meritavo, adesso non è che io voglia incitare, però se si educa una generazione solo a suon di sì, 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 non va bene, a volte servono dei no, entro questo mese il Senato approva su proposta della Lega perché la prima firma dell'emendamento è della Lega il finanziamento per accendere telecamere negli asili nido, nelle scuole materne, nelle case di riposo, per proteggere bimbi, anziani e disabili, asili nido, scuole materne, anche per proteggere la stragrande maggioranza delle maestre, degli infermieri e degli assistenti e dei medici che fanno bene il loro lavoro, che sono il 99%, però probabilmente ci sarà da accendere anche qualche telecamera in qualche scuola superiore per difendergli insegnanti da qualcuno che usa le mani a sproposito e a proposito di educazione sono contento della legge anche qua, primo firmatario, un parlamentare della Lega, guarda caso, che riporta come materia di studio obbligatoria l'educazione civica sui banchi di scuola dall'anno prossimo. Educazione, rispetto, cultura, condivisione, sacrificio, come Ministero dell'Interno stiamo lavorando ad altri due o tre dossier, uno che sarà pronto entro l'estate, una direttiva del Ministero dell'Interno e una proposta di legge della Lega per aumentare le pene e le multe per chi abbandona o maltratta gli animali, che dovrebbe essere ripagato con la stessa moneta per quello che mi riguarda. Un'altra iniziativa la stiamo dedicando a cercare di limitare e combattere le truffe agli anziani, perché ci sono decine di migliaia di anziani ogni anno che sono truffati da vigliacchi. Un altro dossier su cui stiamo lavorando da mesi riguarda alcune case famiglia e i troppi bambini portati via alle mamme e ai papà e tenuti in ostaggio, perché significa che ci guadagnano quattrini. Così come mi piacerebbe che in Regione Piemonte, se ci date una mano, fosse legge quello che è legge da anni in Regione Lombardia, a proposito di bambini, di mamme e di papà. In Regione Lombardia da diverso tempo c'è un contributo che arriva fino a 400 euro al mese per i genitori separati o divorziati con dei bimbi a carico che non ce la fanno ad arrivare a fine mese, perché dopo la separazione e il divorzio spesso c'è la disperazione, se non il suicidio. È una nuova forma di povertà, altro che aiutiamo quelli che arrivano con i barconi. Aiutiamo gli italiani in difficoltà e poi preoccupiamoci dei barconi. Prima ci sono gli italiani che hanno bisogno e poi c'è il resto del mondo. In un paese normale dovrebbe funzionare così. Certo, Riccardo lo diceva, gli sbarchi sono ridotti del 90%, con i soldi che stiamo risparmiando assumeremo 8000 poliziotti, carabinieri e vigili del fuoco, finanzieri e uomini della penitenziaria. Però io ho gli occhi aperti e invito anche voi a tenere gli occhi aperti perché quello che leggo su qualche giornale in questi giorni non mi piace, mi sembra che ci sia qualcuno che ha nostalgia degli sbarchi a migliaia e migliaia e vorrebbe farmi riaprire questi porti. Finché faccio il ministro dell'interno, faccio e farò di tutto perché in Italia i clandestini non arrivino. Punto. Senza se e senza ma. Possono processarmi, vado a processo a testa alta. Non mi interessa. Abbiamo bisogno del vostro aiuto. Due riflessioni perché poi dicevo domani mattina si comincia alle 10 a Bergamo, poi ho la provincia di Brescia, la provincia di Verona, la provincia di Vicenza e poi si gira in questi ultimi 14 giorni. Si vota fra 14 giorni e i dati dicono che quasi la metà degli italiani e quindi quasi la metà dei piemontesi e quindi quasi la metà degli alessandrini forse il 26 maggio non va a votare. No è così, è così. Questi sono i dati. Voi che siete a migliaia evidentemente un'idea ce l'avete. Io vi chiedo un aiuto in questi 14 giorni visto che di soldi per fare mega manifesti, mega spot, mega robe non ne abbiamo, i giornali sono quelli che sono, le televisioni sono quelle che sono. Ho bisogno di voi perché o l'Europa cambia il 26 maggio oppure se per altri 5 anni in Europa comanderà la sinistra, noi fra 5 anni ci ritroviamo in uno stato islamico fondato sulla precarietà, la fame e la paura. Non possiamo perdere altri 5 anni, non possiamo permettercelo e il mio avversario non è il PD, non è Renzi, non è Chiamparino. Io non capisco quelli che stanno a casa perché sono complici. Perché poi magari il 27 maggio borbottano per Tortona, vanno a lamentarsi. Qua non funziona niente, le strade non funzionano, gli ospedali non funzionano, le case, le tasse alte qua e l'Europa non ci protegge. L'Europa ha una voce fondamentale su due temi legati al lavoro. Uno, l'agricoltura. Mandatemi in Europa a difendere l'agricoltura piemontese e l'agricoltura italiana. Io voglio che i nostri figli mangino e bevano i frutti dalla nostra terra e del nostro mare, non le schifezze che arrivano dall'altra parte del mondo. E poi la difesa dei confini. Quello che abbiamo fatto l'abbiamo fatto da soli. Ma pensate se in Europa ci fossero più Salvini, più Le Pen, più Orban. Non entra più nessuno senza permesso in casa nostra. Altro che moschee islamiche abusive. Zero. 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 Quindi, a proposito, vi chiedo, sabato pomeriggio avete impegni sabato prossimo? Vabbè, se qualcuno c'è impegni per carità. Chi è libero? Milano disto a tre quarti d'ora. Facciamo una cosa che non è mai stata fatta. Vogliamo portare centomila persone in piazza Duomo a Milano per far capire all'Europa che stiamo arrivando. E spero che ci siano tanti Alessandrini. Perché per la prima volta nella storia delle elezioni europee non saremo noi italiani a andare all'estero per farci spiegare da altri come cambierà l'Europa. Non saremo noi ad andare a Parigi, a Londra, a Madrid o a Berlino. Ma in piazza Duomo, sabato prossimo alle tre, ci sarà insieme a noi Marine Le Pen, gli austriaci, i tedeschi, i fiamminghi, gli olandesi, gli svedesi, i finlandesi, i danesi. Abbiamo invitato gli inglesi e gli spagnoli perché questa volta è l'Italia che salva l'Europa. Questa volta siamo noi. Parte tutto da Milano, parte tutto dall'Italia. Non parte da Parigi o da Berlino. Siamo noi stavolta i protagonisti. Mi vergognavo quando vedevo i primi ministri italiani andare a Bruxelles col cappello in mano, a chiedere se per favore avanzava qualcosa per l'Italia o per gli italiani. Siccome questa Europa la paghiamo noi con i soldi degli italiani o questa Europa aiuta l'Italia a tornare a crescere oppure facciamo da soli e le regole dell'Europa le riscriviamo noi, dalla prima all'ultima. Stare in Europa sì, ma da protagonisti, con onore e dignità, non col cappello in mano. E quindi vi aspetto in tanti in Piazza Duomo. Poi sono già sicuro che anche lì la stragrande maggioranza delle televisioni farà finta di niente, però non possono nascondere il Paese reale. Sapete cosa proveranno a fare nei prossimi mesi? Proveranno anche a imbavagliare la rete, a imbavagliare internet, visto che controllano le redazioni ma non possono controllare Facebook, Instagram, Twitter e soprattutto non possono controllare la vostra testa e il vostro cuore. Ci proveranno, però la vita vera è più forte della loro finzione di sinistra. Quindi grazie, grazie per esserci. Lavoro, sicurezza, meno burocrazia, meno burocrazia sia a livello di regione che a livello di governo, via gli studi di settore, via tutte le rotture di palle che portano via tempo a gente che vuole lavorare e non compilare moduli. Lasciar liberare le energie, poi ripeto, non sarà una passeggiata, ci saranno difficoltà, l'economia a livello mondiale sta rallentando, la Germania sta rallentando, la Francia sta rallentando, i Paesi che corrono sono quelli che hanno tagliato le tasse. Guardate gli Stati Uniti di Trump, dicevano che con l'elezione di Trump per gli Stati Uniti sarebbe stato un disastro, l'economia italiana sta volando perché sta tagliando le tasse. E quindi basta copiare quello che funziona negli altri Paesi del mondo. Quindi io conto su di voi in questi quattordici giorni, voi contate su di me per questo Paese, se serve do la vita, perché è il Paese più bello del mondo. Grazie a tutti. Viva Tortona e viva il nuovo sindaco di Tortona, se vorrete. Fate un applauso a tutti i candidati. Dove sono i candidati per il comune? Salite, salite, salite. Fate un applauso alle donne e agli uomini della Lega se che si candidano a governare Tortona. Ale, avanti. Applauso a loro perché sono loro che ci metteranno l'anima. In bocca al lupo ragazzi, in bocca al lupo a voi, riprendiamoci la nostra Italia che è il Paese più bello del mondo. Grazie a tutti. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti. Di cuore. Matteo, io ho qui un piccolo presente per te. Il simbolo di Tortona è un leone, un fiero leone che stringe una rosa. E noi il leone qui stasera ce l'abbiamo. È Matteo Salvini. E noi ci impegniamo qui a Tortona, come lui a Roma, a difendere, come leoni, la nostra città, i nostri diritti e attuare il programma che abbiamo scritto ascoltando i vostri bisogni. Grazie Matteo, grazie a tutti. Grazie a tutti.